A Vigliano sta vivendo una condizione di precarietà e provvisolietà, una situazione di incertezza che non fa sperare nel futuro della nostra comunità e di noi cittadini. Una condizione di disorientamento rispetto alla quale poco o quasi nulla è stato fatto negli ultimi 5 anni. È tempo di svegliarsi, è tempo che la comunità viglianese costruisca il proprio domani. Da cittadino rilevato da tempo, e ne trovo conferme in questi giorni di confronto con tanti amici, uno stato d'animo collettivo di disagio, di disorientamento, di difficoltà diffusa, di incertezza nel futuro. In questi ultimi anni sono cresciute le ansie, sono aumentati i bisogni e oggi, alla fine di un ciclo amministrativo, non si intravedono le risposte. Tante opportunità mancate, nessuna visione politica di sviluppo locale. È tempo di ritornare ad avere fiducia, è tempo di costruire il nostro domani.